È appena finito il primo turno dell'Assemblea tra i sindacati e gli operatori della Teramo Ambiente in vista dello sciopero del 15 e del 16, uno sciopero confermato? Sì, lo sciopero è confermato, i lavoratori hanno votato per la riconferma dello sciopero. Noi abbiamo cercato fino all'ultimo di trovare insieme all'azienda una soluzione ma abbiamo visto che dall'altra parte c'è un muro. Anzi, in queste ore, poi saranno i colleghi a dirlo, ci sono arrivate due lettere da parte del presidente della Teramo Ambiente due lettere che l'una dice il contrario dell'altra. Insomma, noi non possiamo farci prendere in giro per cui per domani e dopodomani lo sciopero è confermato. Sostanzialmente cosa dicono queste lettere? Ma sostanzialmente queste lettere noi avevamo chiesto che dal primo ottobre si tornasse alle 6 ore giornaliere e non all'orario flessibile. Nella prima lettera questo impegno c'era, nella seconda lettera questo impegno è scomparso. Poi su tutte le altre questioni, le problemi del piano ferie eccetera per cui non è possibile oggi che i lavoratori, le organizzazioni sindacali si facciano prendere in giro da questi signori. Cosa c'è in ballo in questo momento? In questo momento mi permetto di dire che per assurdo le ragioni che erano la base della rivendicazione dello sciopero fino a ieri passano un attimo in secondo piano perché c'è in gioco la visione di questa società e il modo con cui si intende di continuarla a gestire nel futuro. Perché da una parte sembrerebbero esserci una serie di soggetti che come noi intendono dialogare e riaprire un tavolo. Noi abbiamo chiesto che per farlo occorrevano dei riscontri concreti. Ma sembra prevalere invece l'arteggiamento di chi questa azienda, secondo la sua testa, la vorrebbe gestire come meglio crede e in maniera unilaterale. Questo non è possibile perché la Team ha una storia, una storia che è stata sempre basata sul confronto e sulle relazioni sindacali. Quindi è in ballo questo. Chi prevale? Chi vuole continuare a gestire questa società per quello che è stata, per quella che è la sua storia? O chi pensa di poterla gestire come meglio crede?